marie elena lucio ciao 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 allora conto da 5 a 1 e iniziamo il viaggio 5 4 3 2 o no sì ma non la vedo e lei è come se fosse entrata in una grotta tutta illuminata una grotta molto particolare diversa dalle grotte c'è normale ancora una grotta tutta illuminata di luce cioè come se le rocce invece che fare buio facessero luce è molto spersa perché come se fosse entrata in un luogo nuovo sconosciuto e non sa da che parte andare dove muoversi e come mettiamo l'insegna la grotta ipnosi sotto e rete infinitum vuole entrare quasi danno le risposte quando ci sono progetti militari quando ci sono ex tronisti non ci sono fan di angeli gesù guide angeli custodi quel che c'è c'è la verità è qua di casa la verità è di casa sotto insegna a ipnosi esoteriche infinitum la creazione nel dna ti dà l'autorizzazione mari se adesso si siete su una sedia aspetta che noi l'accompagniamo bene si alzi dalla sedia vediamo subito la sua vibrazione se 7 miliardi consapevolezza 116 ps 31 vite 2687 cervello 9.2 allora la vibrazione non è altissima ma neanche sotto le scarpe il cervello è molto alto 9,2 mai fatta una sessione mari le vite sono medio alte la ps un po sotto le scarpe la consapevolezza non è che sia così straordinaria quindi il dato è il cervello nome del progetto di mari legato la c legati delle scarpe se così cade esattamente chi è il furbone che a chi è la legati i lacci delle scarpe lei ovviamente ma chi ha demandato delegato che cosa fa sghignazza si assicura continua assicurarsi che allora se si slaccia un nodo lui lo rifà subito ok altre entità eteriche non riesco non so che insetto e magari esiste comunque un insetto ed è una specie è una via di mezzo tra una cavalletta e una vespa e alle ali tipo ribellula trasparenti insetto non ti piace ma è strano fuori tipo di un cavolo di una vespa queste ali trasparenti tipo ribellula e il corpo sotto è tipo una cavalletta insetti normalmente non sono neanche poi così brutti quelli che vedete voi sono sempre dei mostri disarmonici sbagliati mischiati mischiati si disarmonici quindi occhi troppo grossi zampe piccole ali fastidiosi lì che la ribellula un animale molto bello ma dice solo la protezione fatelo e sono stupende questa non è la ribellula solo le ali lunghe non la ribellula lunghe strette trasparenti sti occhi costa testa sa tipica di vespe calabroni e poi il corpo di una cavalletta poi poi invece c'è un amantide ok poi c'è anche un bagno e poi ci sono due uomini del tempo e due militari è come se fossero una squadra unica non è tanto che non ci sono i militari ma cosa fanno i militari allora sono collegati a questo programma potrei dire questo programma lo chiamano programma di indagine collegato ai siriani è come se agissero su alcune persone con gli uomini del tempo per indagare la come potrei dire come le persone con la ps riescono a liberarsi dei problemi cioè come se mettessero degli ostacoli proprio nella matrix gli eventi direi degli eventi spostano del tempo e mettono degli eventi apposta ad alcune persone per vedere come la ps e la persona non tutta la persona riesce a liberarsi da questi eventi e ce ne direi come se vedessi proprio loro no loro quattro che mettono come se mette essere un pannello che la l'esperienza di quel momento quindi un luogo è una linea temporale messa come vogliono loro in questo caso c'è vediamo mari che arriva davanti a questa esperienza e studiano come la persona riesce a girarci intorno arrivare dall'altra parte lo stesso se ci riesce come ok questo è un lavoro da uomini del tempo perché ci sono dei militari stanno cercando di imparare sì esatto se stessi stanno cercando di imparare per cercare di bloccare questa cosa perché c'è proprio a livello di con i siriani vedo che hanno messo anche dei ci sono delle posso dirti proprio ci sono tipo delle stazioni logistiche sparse proprio nella matrix concretamente dove creano delle coordinate c'è vedo questi computer dove mettendo dentro i dati che gli arrivano che analizzano ok creano delle situazioni sempre più complicato sempre diverse e questo lo stanno facendo perché questo fa sì che allora da una parte cercano di rallentare la loro disfatta disfatta parlo del tip state ok e questo diciamo un ulteriore tentativo dall'altra come se cercassero di mettere le basi per un per un futuro attacco nuovo attacco nuova interferenza con l'umanità mi viene da dirti entità mentali di mari allora c'è questa questa quattro che è come se fosse preponderante ok questa confusione che come se la rendesse riservata timida viene da dire questa confusione che fa sì che lei si presenti al mondo in maniera timida e riservata la vede un po così no questa confusione che la rende insicura e quindi si approccia un po come entrata nella grotta prima no un po spersa così questa città mentale di livello 4 poi c'è anche questo un entità mentale di livello 3 che fa sì che lei non riesca a esprimersi nel senso è come se dal pensiero e dall'idea che ha nella testa ok la sua idea idea c'è il pensiero ideale che la fa muovere tradotto in parole diventa come si diventasse una frase un po asciutto un po cruda non so come dire senza possibilità di replica mi viene da dire no quindi cancione direbbe si non troppo non tanto brusca ma senza è così ragganci diciamo che è così non pone una discussione in essere ma questo è il concetto che mi riguarda io sono per esempio io sono così ma vorrei che no io sono così ecco non timida dato di fatto prendete questo accorcio questo l'estero sono tantissimi la testa poi poi c'è questa 6 questa entità mentale 6 però sì sì allora ok questa cosa qua soprattutto con gli animali ma un po in generale questa entità mentale 6 fa sì che le crea diciamo delle delle situazioni delle esperienze delle proprio del degli eventi che fanno sì che lei debba mettere tutta la sua energia all'esterno ok e venga rallentata per mettere l'energia per sé molto legata agli uomini del tempo e ai militari una buona parte e poi però c'è tutta anche la parte di zeus con le stringhe perché così lei inciampa sempre come se tutta quell'energia che le potrebbe mettere nell'arte che nella sua realizzazione invece viene utile viene fatta da utilizzare verso l'esterno verso gli animali verso gli altri come la chiamiamo mi viene esteriorizzazione di energia però può sembrare positiva in realtà è proprio certo proprio che fanno in modo che sia lei a dare l'energia all'esterno no se ci fosse pressione negativa e lei non può fare altro che riempire lo spazio vabbè le cause esoteriche sono un po ridondanti mai dette le chiede lo stesso la causa esoterica del credere non credere nel proprio lavoro lei vorrebbe fare l'illustratrice ma non investe diciamo nel suo lavoro non funziona non va se si appunto dire che l'entità mentale di livello 6 principalmente e l'entità mentale di livello 6 zeus e i due militari e gli uomini del tempo ok quindi l'entità mentale di livello 6 fa sì che lei non ci creda che spenda il tempo fuori ok c'è per il resto per tutto l'esterno non per se stessa gli altri due creano le situazioni in maniera tale che lei sia sempre portata lì a fare altre cose quando lei trova un canale per sviare questa cosa che volme del tempo i militari gli creano una situazione ancora diversa o più impegnativa in cui lei deve spendere energia causa esoterica della pausa della menopausa precoce sì allora mi è apparso un aggancio di una situazione avvenuta interno ai 13 14 anni ho visto previsto qualcosa tipo potrebbe essere io vedo un uomo quindi potrebbe essere il padre non so in una situazione a sfondo sessuale particolare è come se lì fosse fosse stata in quella situazione di è come se le avesse avuto una percezione distorta di tutto quel di tutto quel mondo e quindi con questa situazione le sue vibrazioni si sono abbassate tantissimo ed è stata agganciata allora vedo posso dirti sopra vedere se riesco a capire il nome di questi qua vedo questo laboratorio dove le fanno delle abduction da allora legato all'amantide ok ci sono questi qua che sono delle specie di degli insetti con delle protuberanze qua forse sono quelle di prima come quelle di prima se in questo laboratorio e quindi da lì hanno all'età di 5 6 anni dormivo con i miei e sentivo che facevano sa è questo allora parte da lì non sapevamo però vedo anche che fu qualcosa anche visto oltre sentire quindi se meno pausa precoce che sento unico pazzesco la bla 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 adesso non più appena lo dico scompare si diciamo che gli esperimenti lavorano tutto sulla parte quindi utero ovaie e quelle due cisti che lei ha sono stati inglobati 22 impianti anche la ps riuscita a neutralizzare però lavorano sempre sposta si spostano vanno in altri posti fanno sperimenti c'è altri posti dell'organo cisti alle ovaie sono scarsa libido uguale come se agissero se sì allora per la scarsa che vivono in particolare usano questa specie è come se li mettessero proprio degli strati di sembrano quasi come se fossero dei metalli ma invisibili gli strati di metallo invisibili intorno alla parete la vagina va bene chiamiamo nel cinema il suo compagno che è stato si è cini paccato e i familiari stessa cosa allora c'è un carico diventa scuro diventa scura la luce del cine del cinema non so se aspetta perché non mi è mai capitato di probabilmente con questo carico è come se l'energia delle loro ps un po separate no che hanno quella io vedo sempre come se ci fosse un fulmine nero dietro ok questo carico questa vibrazione bassa ha reso la luce del cinema nera quindi come se fosse tutto buio nero non davanti e dietro c'è loro possono vedere lo schermo perché lo schermo è mari e quindi rimane illuminato vivo e tutto ma dove ci sono tutti gli spazi è tutto nero ma vengono tutti se sono tutti e tre in prima fila chi è il più interessato il compagno o altri i suoi genitori sono so se no allora il padre no perché sarà un uomo non so se la mamma un compagno non so c'è un uomo che è venuta toma me viva sia la madre c'è uno zio non so più o meno all'età della mamma quindi potrebbe essere uno zio e il suo compagno questo uomo qua la mamma e il compagno prima fila chi è tre va bene causa esoterica del suo attaccamento agli animali e del suo peregrinare con animali allora un gatto con una forte d'ermatite volontario in un canile e animali che erano nel canile anche se normalmente non è che stiano così bene nel suo caso sono sempre veramente malati causa eventuale causa esoterica questo è proprio un aggancio che hanno trovato facile uomini del tempo e entità mentale di livello 6 col suo amore per gli animali e animali malati è un aggancio per tenere la sua energia fuori tantissimo compresi anche a livello economico c'è lì proprio a 360 gradi riescono a far sì che lei metta volontariamente appunto l'energia fuori quella parte molto preponderante di questa cosa lo fa anche con le persone ma sapendo che lei ha questo forte amore per gli animali le entità lo usano proprio come strumento preponderante quindi le presentano sempre animali malattissimi proposito il gatto come lo vedi se è come se posso descriverte come se fosse ma ma sono dieti come se fosse nato con questa informazione della pelle ok dove deve avere questa forte dermatite sempre è come se ha periodicamente gli arrivasse una scossa dall'esterno ma è una cosa su c'è è una reazione della sua pelle come se da in eterico e come se gli arrivasse una scossa ogni tot che dire che era la dermatite alla pelle è stato diciamo messo davanti a lei questo gatto perché sapevano che lei se ne sarebbe presa cura quindi spende energia molta energia la consuma lì e questo mari questo ha un gatto rosso ma questo vale per tutti i gatti con dermatiti no 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 per questo va bene io voglio capirci qualcosa in questa storia andiamo un po indagare nelle sue vite passate ce n'è una che è un po la madre la vita madre di questa attuale vita allora mi fa vedere questa vita epoca 6 700 direi se 600 quell'anno lì precise 623 allora lei è questa bambina di questa famiglia ricca in un palazzo molto bello dove si vedo questo salone grosso con queste colonne in marmo che questo pavimento in marmo verde mi viene da dire e c'è questa mamma con tutte le damigelle che è premurosa questo questa bambina che deve essere sempre perfetta ok dove mi fa vedere questa qua è un po lo stesso allora cosa posso sto cercando di vedere che cosa c'è di uguale in quella vita lì a questa è la caratteristica ecco questa madre per quella madre lì che proprio non poteva stare senza sapere come stava la figlia quindi molto prensi c'è sua figlia doveva essere sempre perfetta ok non è che caricava tanto la figlia di questa cosa ma la doveva sempre avere sott'occhio e le damigelle e la servitù doveva sempre far sì che lei fosse sempre perfetta agli occhi degli altri ok perché come se non avesse fatto fatica vedo ad averla ok non riuscivo a rimanere incinta ok e quindi ed era un'onta mi fa vedere per non avere figli no era come un peccato alla fine è riuscita avere questa figlia quindi doveva essere perfetta agli occhi degli altri quindi allora con questa vita l'unica cosa che mi viene è che questa bambina aveva questo carico di apparire sempre perfetta quindi probabilmente all'esterno lei doveva sempre soddisfare le richieste dell'esterno quindi non lo so quell'epoca lì poteva essere vedo le amiche della mamma che arrivavano per il tè e volevano che ne so sentirla suonare le due a suonare perfettamente pianoforte con esempio che è arrivata adesso l'immagine una cosa così oppure andare perfettamente a cavallo perché dovevano vedere che lei era bravissima andare a cavallo quindi questo carico qua la figlia perfetta si la figlia perfetta e in questa vita qua vedo che è come se fosse tradotto nel suo servillismo nel suo accudimento dell'esterno degli animali e delle persone all'esterno e poi c'è tutta la parte anche del riguardo appunto l'apparato riproduttivo c'è questa cosa qua anche perché appunto la mamma non riusciva la non riusciva ad averla e di qua c'è questa tutta questa di già in questa anomalia fisiologica sulla tutta sulla sua parte sessuale se riproduttiva va bene cosa fa la madre nel cinema davanti a questa visione si sente un po disagio come se come se in eterico fosse stata diciamo scoperta è come se quello che mi passa è che la realtà nella vita di tutti i giorni non può non sembrare così attenta a queste cose di mari quindi a come mari si muove cosa fa cosa non fa a realtà nel profondo lei vorrebbe che mari fosse la figlia perfetta da mostrare quindi vedo che si gira finta di niente si pulisce la spalla così va bene portale aureo chiamiamo tutti i parenti di mari e in primis il padre ecco c'è questa cosa strana che mi ha fatto vedere subito allora è arrivato come se fosse un monaco buddista direi ma di tanti secoli fa qui c'è nel senso arriva come se arriva levitando con le gambe incrociate ok e dice che nella vita in cui lui era così c'era anche mari e mari era il suo allievo prediletto perché era l'allievo che riusciva a fare tutto quello che riusciva a fare lui e quindi come se fosse tornato è come se fosse tornato incastrato in quella vita la e voleva far vedere amari questa cosa il padre c'è adesso come vedi adesso lo vedo tutto molto sofferente arriva tutto ingolpito un po affaticato e dice adesso sono qua e ti fa faccio vedere questo ma io preferisco stare in quella vita la di monaco buddista beh gli diamo una ricca ecco lo che dice mi sono nota che nell'ultima vita non si ricordava assolutamente nulla di quella vita da monaco buddista no quindi quella parte diciamo energetica completamente dimenticata e cancellata si chiede se è possibile nelle vite successive nascere con una memoria è quello che cercherà di fare o con una consapevolezza sì sì adesso con la vic si con la vic si ce l'ha tutto chiaro messaggio alla figlia vediamo cosa gli dice le dice ci sono betti i tuoi canali aperti in eterico è come se io vedo un fiore che è quasi aperto un po ma rimane chiuso e potresti aprire tutti i petali del tuo fiore è bello il tuo fiore e poi l'abbraccia se l'abbraccia stretta va bene la scena commovente e belle profonde senti si senti in unione se si si sente proprio che vibrano all'unisono va bene lo salutiamo quanti disincremati vanno insieme a lui e il portale aureo a 197 della famiglia di mari poi ne sono arrivati altri 328 mai causa esoterica della lentezza se c'è ovviamente della lentezza dei degli aiuti in seguito al terremoto del 2016 un sacco di scuse ma realtà non hanno nessun interesse ad aiutarli certo bisogna mandare soldi in giro ad altri gialli azzurri fascisti neofascisti ma non si può dire quindi non c'è una causa su te rica legata a mare magari bisognerebbe in pocassi le maniche visto che siamo creatori e costruiamo da soli e basta dopo una settimana avevano ricostruito su ragazzi bene cosa facciamo con mari cosa vuole fare ok rispetto a prima c'è vedo una differenza allora all'inizio era tutta molto insicura diciamo si è fatta guidare da noi era un po più passiva adesso ho visto proprio che ci ha mostrato come se fosse una strada ben delineata verso il suo cluster e ci dice a tutti e due venite con me seguitemi bene è andata proprio decisa la seguiamo vediamo cosa fa senza suggerimenti come a scuola ci sono tanti bloc note se come se fossero messi su tanti leggi no inclinati così e tanti bloc note e ogni bloc note spero ogni vita sta aprendo portale definitivo e cosa fa ti sta prendendo tutti e mi sta buttando da portare definitivo accogli ha portati era chiuso ad eternum qua vediamo se lo fa da sola sono la aiuti ma dice prova a farlo e vediamo dal palmo della mano e quella appoggiata terra è come se appena l'appoggia allora qua sembrava piccolo appena l'appoggiata diciamo a terra si è proprio diffuso in tutto il cluster avatar si è vestito da gangster americano sigara in bocca via si sta prendendo portare definitivo ok lo ha eliminato se chiuso portare definitivo stai facendo una d'eterno qui l'ha messo al posto dell'avatar con questa nuova condizione ci sono ancora i due militari i due uomini del tempo vari insetti zeus tre entità mentali 4 3 e 6 no impianti che a volte analizza molte non dato non è più così importante ci sono no c'erano delle entità mentali collettive a 6 era legata a potrei chiamarti altruismo allora però altruismo egoistico lo chiamerei quantità mentali collettiva diciamo forte bene per se stessi esatto non c'è più il lacci legati no benissimo nuova vibrazione 129 miliardi nuova consapevolezza 138 ps 69 il numero di vite 1926 cervello in questo momento è 9.7 si è alzato cosa messaggio finale di maria se stessa in relazione specialmente al mestiere di illustratrice alla passione per il disegno per il mettere su carta idee immagini e farlo trasformare in un in un lavoro trasformarlo in un lavoro allora la cosa fondamentale è proprio utilizzare la sua capacità artistica per praticare la creazione della sua realtà quindi dipingere disegnare ogni volta che vuole creare qualcosa che vuole far qualcosa che ha un obiettivo una direzione dipingerla ma proprio anche ogni ogni cambiamento di questo obiettivo che ne so per esempio la casa da ricostruire è così allora il primo obiettivo di creazione che voglio è che la casa inizi a prendere una certa forma la dipingo come voglio poi che venga che all'interno abbia determinate caratteristiche la dipingo come la voglio che all'esterno ci sia un giardino non lo so la dipingo come la voglio che ogni volta questo per lei è utilissimo per centrarsi per creare proprio mette le vibrazioni col col dipinto con la pittura col disegno lei mette le vibrazioni perfette per creare per fare la sua realtà creare la sua realtà e fa sì che lei rimanga molto centrata nelle vibrazioni alte e questo lo aiuta a non farsi interferire dall'esterno e nel lavoro allora adesso può andare avanti a fare quello che sta facendo secondo me rimanendo così centrata vedrà che i limiti che finora si era messa spariscono e quindi a livello esponenziale le arriveranno anche delle richieste dall'esterno vedo proprio fra pochi mesi due tre mesi inizieranno proprio le richieste e un'altra cosa che poi vedo che può fare fra un po quello che lei fa per sé quindi creare la sua realtà disegnandola lo può fare per gli altri nel senso che quando qualcuno vuole disegnare qualcosa o come posso dire facciamo sempre l'esempio di una casa una persona vuole farsi casa sua in una certa maniera è un esempio questo no ma non sa come come dirlo a chi la deve fare lei può aiutarla a dipingerla quindi la persona descrive a mari la sua casa e mentre gliela descrivere la dipinge e verrà esattamente come la persona vuole emette praticamente la persona riesce a far vibrare il disegno con la vibrazione della creazione in una parola messaggio finale il riassunto creatività scoppiettante ok il compagno è la fiamma no posso dirti che è un anima fine di livello 3 ok il compagno cosa fa nel cinema ha preso la v2 si si ha presa prima è emozionato positivamente emozionato nel vedere quello che ha fatto mari i familiari testa domanda allora la mamma si sa cioè si tiene contenuta quindi dice brava brava bello brava no vedo un po contenuta e poi c'è quest'altro signore che è come se fosse diviso tra la sua vita di sempre e quello che ha visto quindi come se fosse si stesse facendo la domanda come poter arrivare a fare quello che ha fatto mari va bene salutiamo tutti lei si saluta come praticamente fa un'involuzione su se stessa e si appogge di questa energia creativa scoppiettante va bene va bene va bene Grazie.